Benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Anche oggi ci andremo a fare la nostra solita run Con la speranza di migliorare quella vecchia Allora raga, io come sempre sto registrando con 34 gradi all'ombra Quindi vi lascio immaginare nella mia stanza col ventilatore spento Quanti gradi ci stanno, pochi, pochi Fetro, non mi ricordo a che cazzo serve Però damage resistance, non male, io lo uso Vediamo che cazzo mi dà, assolutamente nulla, perfetto Andiamo avanti, ragnetti di merda, una bomba Aspetta, vediamo se c'è qualche pietra da rompere qui Anche se non mi pare di averne viste E infatti non ce ne sono Ovviamente il primo piano me lo vado a esplorare sempre tutto quando c'ho la bomba Perché non si sa mai Quindi andiamo dall'altro lato perché qui non ne vedo E mi pare di aver lasciato una stanza indietro Non fatta, proprio quello all'inizio E infatti Eccola qui, non è un cazzo Perfetto Perfetto, magico, magico Andiamo a vedere qual è il nostro primo boss Con la speranza che non ci cagli troppo il cazzo Non ti bloccare nelle porte Chi sei? Monstro Monstro con tanti amichetti Va benissimo Va benissimo Gli amichetti sono morti Ok, facciamo così Oh, attento Non salta questo mostro Ok, salta questo mostro Perfetto Dai così Abbiamo vinto Donna, il primo piano senza prendere danno Siamo incredibilmente forti Ci becchiamo pure un HP Però purtroppo questi due cuori dobbiamo lasciarli qui Secondo piano Secondo piano vedo un Basement 2 Strano che non mi è uscito burning di solito Do cazzo vai? Ah, sei un figlio di puttana Muori Summon books Proviamolo perché io non me ne ricordo Ah, 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 capisco Ottimo No, non male, devo dire la verità Potrebbe tornarmi utile nella stanza del boss Anche se effettivamente fa danno anche a me Apriamo questo Pillole Le usiamo Speed up Io le atoro Oh, qui Robo baby Free and steal the bzzz Qui c'è una soul Rock Damage up Grande, ci sta andando di lusso Ok, monete per noi Tra l'altro le monete Non so se è un Cioè se c'è un Una sorta di Aritmetica Ma Tipo prendendo le monete C'è una possibilità Che voi possiate ricevere anche la cap Che è La fortuna aumentata Ho aperto con la speranza di trovare qualcosa Mi prendo la bomba Perché assomai trovo qualche altro soul art C'è soul Ma avete capito Soul rock Pare che io stia dicendo soul rock Il pokemon Ma in realtà no Ok, qui c'è la stanza del boss Torniamo indietro perché qui Non c'è un cazzo Perfetto Dimmi che tu Oh, chiavi Buono Buone le chiavi Buone Buone, buone, buone le chiavi Mi prendo pure la moneta dentro Poi aspetto il timing Ed esco Eh, io uso il libro Sì, sì Ah, bastardo Unfame Oh, stanza del patto Quale è? Tears up Ok Oh, di culo Krampus Va bene Tra l'altro Dovrebbe darci la Krampus rage Che effettivamente trovo anche più utile Rispetto a cosa Quella lì è il 2D È il multiplier degli item Io non ho ancora capito Quando cazzo si usa Quindi non lo prendo Flooded cakes One Ok 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 E ok Perfetto Possiamo aprire anche la stanza Cut and run Ah no Mi fa schifo proprio Sinceramente Preferisco la Krampus La Krampus head Almeno per il momento Almeno per il momento Poi vediamo Effettivamente potrei tenermela Fino alla fine La Krampus head Perché schifo non fa Pillole I can see forever Ottimo Posso vedere Le stanze segrete Mi pare Non mi ricordo Ma mi pare che fosse quello Lo scopo di quella carta Muori Vediamo se c'è qualcosa di utile Assolutamente no Io di solito apri i negozi Per la stanza C'è per I cuori plurega Non per altro Tanto stanza segreta rivelata Grazie alle pillole Ci andiamo Vediamo cosa c'è Uh monete Buono La Kramp Vedete C'è una probabilità Che voi beccate la Kramp Prendendo le monete Che schifo non fa Anzi Cioè sono felice Andiamo avanti Ok qui c'è la stanza del boss Io gli scheletrini Li odio Infortunatamente non ho preso danno Trickle charge Non chiedetemi cosa faccia Perché non ne ho più Proprio idea Qui non c'è un Cristo Idiot di nessuno Andiamo a farci Gordi Tra l'altro Gli usiamo subito La Krampus rage E ce lo leviamo dal cazzo I feel cozy No È memory Un cuore blu in più Pat Uh Lil brimstone Grande Ma sapete Vi dico Mi piglio pure questo Mi piglio tutto Mi sono pure rimpicciolito È vero Perché col ciucciotto Prendete Cioè sono memories Quindi diventate bambini In teoria Non che adesso voi siate Chissà quanto grandi Ma tipo Io Lil brimstone Lo adoro Lo so che ho perso Tipo 6 cuori 5 anzi Per fare i patti Col diavolo Regà Però fidatevi Che sono ottimi Questi personaggini qui Tech x Lese What No Questo non me lo ricordo Sinceramente Cuore blu Vedete C'è andata pure di lusso Aspettate però Si può andare avanti qua Vediamo cosa c'è Mi sa che stiamo proseguendo Anche piuttosto bene No Che odio Sta stanza Madonna Eh Eh vaffanculo Io lo devo prendere per forza E danno In sta stanza Mortacci vostra Madonna Come l'ho evitato Ok Qui c'è la stanza Del negozio Uh Pure blu Grazie Eh Cosa posso comprare Niente Va bene così Eh Si raga Io tengo sempre premuto Per essere già pronto A sparare Lo so che è un brutto vizio Però Oh Non lo faccio Neanche apposta C'è più che altro È che mi Mi sento più sicuro Almeno se devo Sparare Sono già pronto Muori Grazie La TNT Mi sta sul cazzo Quindi la faccio esplodere Ciao Ok Madonna Che shot Che sto fa Fondamentalmente Posso andare dal boss Perché comunque La stanza L'ho già trovata C'è la stanza Madonna Che potenza Fuori anche questo boss Qui Shot Speed up Che effettivamente Potrebbe tornarmi utile May you find What desire Questa qui No cazzo Penso fosse quella Della stanza segreta Ho sbagliato Aspetta ma I can see forever Quindi io in teoria Posso ancora trovare La stanza con doppia chiave È sempre qualcosa di ottimo Affanculo però Quando faccio Ste stronzate Cioè proprio Gli sono andato addosso Ok Mettiamo una bomba qui Close with power Non so a cosa serva Sinceramente Comunque ho fatto Rifocillazione Di oggetti E io direi E io direi che possiamo Anche andarcene avanti Mi frega un cazzo La stanza segreta Sinceramente Andiamo 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 Entriamo giusto In questa qui Per più Un po' Un po' di cazzi In faccia Così dai Boss a random C'è l'avevo proprio detto Io Dai scendiamo giù Cazzo Mi sono dimenticato La carta Mi sono dimenticato La carta Sono un coglione Vorrebbe essere Eh Dunk dips One E meno dips Dunk dips Proprio Giusto per aumentare La difficoltà Perché siamo troppo forti No Morite tutti Infami Lazy worm Sinceramente Regà Questi oggettini Qui extra Che non Ti danno damage Up O cose Così Purtroppo I I Cioè Non so Che cazzo Servano Lo dico Esplicitamente Lo so Che mi avete detto Della missing good Ma io Crascio Cioè davvero Io Crascio Cioè mi lasciavo Programma di registrazione Mi crasha The binding of Isaac Mi crasha tutto Ogni volta che provo Ogni volta che io Avvio la registrazione Con la missing good Aperta Non chiedetemi il motivo Perché davvero Non ne ho Poi Vedete Donna come ho Scanzato il colpo Andiamo avanti Un cuore blu Potresti dare Aspetta Questo con i soldi Li da oggetti Quindi Ok Una bomba Noi continuiamo A darglieli Una chiave Anche perché lui All'improvviso Sparirà E ci darà Tipo gli oggettini Quelli strafighi Eccoli qua HP up Di lusso C'è il sigliozzo Perfetto Chi c'è qui? Ah voi Li odio Però siete stupidi E morite da solo Di solito Apriamo qua Uh ciao Infestation shot Buono Ciao L'infestation Infestation shot Ragazzi Attivo un qualche cosa Di OP Perché tipo Non morite nemmeno Cioè ogni volta I vostri nemici Praticamente diventano Vostri alleati Una volta morti E però Io prendo danno Perché sono Un coglione Relax Che figo Andiamo per di qua Fantasmini Morite Un'altra bomba In questa stanza Ci voglio andare però Così Giusto per vedere che cazzo c'è C'è un cazzo Però vabbè Meglio prendersi gli alleati No? Così vado sul sicuro Andiamo avanti Tra l'altro penso che siamo Quasi arrivati alla stanza del boss E effettivamente Eccola qui Quello lì non posso prenderlo Loki Contro Loki Usiamo questa qui E ci prendiamo questo E andiamo pure qui dentro Che cosa prendo? Questo Lord of the Pit Demon Ho sbagliato Demon wings Ti dà le ali Io già ce le ho le ali Regà vi prego Non fucilatemi nei commenti Che voglio bene Ho sbagliato Andiamo avanti Tu muori Comunque siamo tipo Troppo OP E tra l'altro Questo qui come sempre Regà Sarà l'ultimo piano Perché sapete che Nelle run Io Mamma mi fermo Sempre che noi riusciamo A ucciderla Con tre cuori Tra l'altro dovremmo pure farcela Vision La uso perché mi fa vedere Tutto il piano Perfetto Tra l'altro mi fa vedere Pure le stanze segrete Non ne avevo idea Attenzione Attenzione Macchine intanto Prendiamo se Aspetta Ah ma non me le apre però Dovrebbe essere qui comunque Eccola qua Non ci credo Possiamo già andare in utero No regà Però non ci voglio andare No è troppo facile così Voglio giocarmela Adesso Per far sta cazzata Guardate che ci muoio Sono sicuro 100-100 100-100 Che muoio Cosa vogliamo scommettere Oddio cos'è Lol Regà ditemi Che cazzo serve È la prima volta Che lo vedo Davvero Non avevo mai visto Questa cosa Mai mai vista Davvero Non so Non ho propria idea Di che cosa cazzo Possa essere Sinceramente Comunque mi sa che io Tipo mamma La one shot Cioè davvero Guardate qui Quanti Appunto Dobbiamo prendere Il negativo E Poi non ho la carta Altrimenti mi sarei buttato Qui dentro Ma purtroppo Qui dentro Io ci posso entrare Però non prendo oggetti Una volta che voi prendete oggetti Qui dentro Spawnano tutti i boss del gioco E voi dovete ucciderli E con tre cuori È abbastanza infattibile Quindi non ci tengo Comunque regà Questa run finisce qui Spero vi sia piaciuta Nel prossimo episodio Andremo a farci utero Sperando di poi proseguire E andare a sconfiggere Satana Vi invito a lasciare un like Commentare e condividere Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Datevi saluta e Bella